Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come fare il pezzerino? Buongiorno. Ah, c'è pure il trauma. Buongiorno. Come te saldavo? Ah, no. Mi sa che è un po' piccola per quanto fa. Scusate. 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 Mi sa che è un po' piccola per quanto fa. Un po' piccola. Un po' di pubblicità. Un po' di pubblicità.